È da poco passata luna di notte quando il rumore della pioggia che sta scendendo in quel momento viene interrotto da quello che qualche residente descrive come un boato. Pensavo che qualcosa fosse esploso, è stato impressionante, racconta chi vive a pochi passi da dove si è consumata l'ennesima tragedia sulle strade della marca. Sull'asfalto oggi restano i segni di quanto è accaduto. Da una prima ricostruzione della polizia stradale di Vittorio Veneto, un Apollo proveniente da Treviso che viaggiava in direzione Jesolo e un furgone Mercedes da nove posti che sopraggiungeva dalla direzione opposta si sono scontrati frontalmente ai piedi del cavalcavia, lungo la Treviso Mare all'altezza di Roncada, due passi dal centro commerciale e l'arsenale. Un impatto violentissimo, il van finisce nella scarpata che affianca la regionale 89. In pochi istanti sul posto arrivano i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM. Ho sentito tu, ma una botta normale, le finestre chiuse, tutto chiuso, non ho sentito niente, ho visto il trombusto, l'ambulanza, la pulizia e macchine che rallentava, nient'altro. Poi ha saputo cosa era successo? E dopo sono dentro perché mi dispiace e dopo ho saputo stamattina sul telefono cosa che è successo. Per Ludovico Brunello, 31 anni, di San Biagio di Callalta, per la collega Valeria Orsoni, 24 anni, di Treviso, che viaggiavano a bordo dell'Apolo, e per Dominga Orsato, 53 anni, di Asolo, al volante del Mercedes, non c'è purtroppo più nulla da fare. Coinvolto anche un terzo veicolo, sopraggiunto pochi istanti dopo lo schianto, feriti in modo non grave i due uomini a bordo di 34 e 42 anni, e il 56enne che si trovava su sedile del passeggero del van. Cosa sia successo lo potranno chiarire solo le indagini della polstrada di Vittorio Veneto, intervenuta per i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica del sinistro. Sulla carreggiata e sulla vicina scarpata restano i resti dei due mezzi, pezzi di lamiere volati anche a diversi metri di distanza. L'asfalto, in quel momento, era particolarmente viscito a causa della pioggia. Pioviginava, sì. Prima pioveva, ha piovuto tanto. E dopo pioviginava. Ora, di fronte a Trevita spezzate, si torna a parlare della pericolosità della Treviso Mare. La Treviso Mare è nata pericolosa. Ha fatto una super strada in mezzo ai campi, in poche parole. Se non succede in fondo dove si deve fare la rotonda, succedeva un po' più in qua, ma succede sempre incidenti, sempre.